qui ci troviamo in piazza duomo e quello alle mie spalle appunto il duomo dedicato a sant' alessandro sin dal 1689 questa chiesa risale al quinto secolo ed è stata ultimata nel nell'ottocento al suo interno si possono trovare molte opere di artisti come moroni ricci e pre vitali la facciata è in stile appunto neoclassico presenta una pianta a croce latina con navata unica